Come significa questo premio e cosa valorizza del lavoro svolto? È un premio molto importante, ci teniamo molto e sicuramente è un premio che valorizza la squadra, tutto lo studio, che è uno studio nato con un focus sull'oil e il gas che però piano piano si sta dirigendo anche verso le energie rinnovabili che è un settore di molta espansione in Italia e nel mondo, insomma un settore che ha dato lavoro a 10 milioni di persone in tutto il mondo nell'ultimo anno quindi è molto importante, i ragazzi hanno molta voglia di imparare in questo settore dell'energia che è un settore complesso perché ci sono molti aspetti regolamentari oltre che all'attività corporate e transactional quindi è molto sfidante ma molto molto interessante. Che cosa si dice ai tavoli in serate come queste? Si scommette un po' sui vincitori o si guardano i concorrenti? Diciamo che sono serate sempre molto piacevoli perché si ha modo anche di rincontrare tanti colleghi e amici che molto spesso insomma o li troviamo in tavoli di negoziazione oppure è difficile anche rincontrarsi quindi è piacevole. Sicuramente un po' di toto soprattutto i giovani lo fanno, un po' di scommessa quindi è carino, è carino, è divertente. Cercano di capire le dinamiche? Le dinamiche, insomma i volti, forse dobbiamo cambiare qualche foto che oramai è un po' datata però tutto molto divertente insomma. Ciao! 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 Ciao!